amici di motor d ben trovati al nostro settimanale appuntamento con l'informazione sportiva e l'attualità motoristica l'appuntamento con extra tv con motor d alla puntata numero 2 abbiamo rotto il ghiaccio sette giorni fa ed ora ci siamo avviati con una grande spinta da dal rally di capitale dal rally di picco che hanno rappresentato praticamente il fulcro dell'entità motoristica realistica per quanto concerne il passato fine settimana come motor d abbiamo seguito questo avvenimento ma di questo ed altro ce ne parlerà la nostra francesca sacchetti francesca trovate amici ben trovato alessandro anche quest'oggi giornata ricca di approfondimenti il focus sarà tutto quasi sul rally di roma capitale di pico avremo infatti in studio i protagonisti vincitori del rally di pico fabio carnevale il suo navigatore mirco liburghi e poi in esclusiva per voi le interviste che abbiamo realizzato a fiuggi ai protagonisti del rally di roma capitale nella seconda parte invece apriremo una finestra anche sulle competizioni in pista e un ampio servizio ed interviste alla prova di campionato posh club gt disputatasi a monza lo scorso fine settimana benissimo francesca allora se tu sei d'accordo io direi intanto di rompere il ghiaccio con i nostri due ospiti odierni al nello studio 5 di extra tv con noi ci sono fabio carnevale e mirco liburghi ben trovati ad entrambi buonasera allora fabio iniziamo iniziamo da te grande vittoria quella nella edizione numero 42 del rally di pico soprattutto un gran sollievo perché erano 24 anni che ci provavi veramente da qualche anno di meno perché sono pochi anni che ha a disposizione una vettura da assoluto però dopo quattro secondi posti se non erro due volte sul podio sul terzo gradino del podio finalmente la vittoria forse nel momento più importante più significativo e poi spiegheremo il perché vero fabio si è arrivata la nostra meritata vittoria del 42esimo rally di pico in un periodo storico un po triste però è stata una bella vittoria conquistando tutte le prove speciali e è stata una vittoria dedicata particolarmente a due persone al mio papà e a giammasi battista mio carissimo amico che doveva quest'anno fare la coppa italia con me ma ci ha abbandonato il 24 di marzo e si una dedica particolare si è stato navigato invece da mirco liburghi che al tuo fianco e che ti ha portato spinto verso verso questa vittoria e anche per te è stata una gara particolare perché veniva dopo questo lungo periodo di pausa ma soprattutto perché è richiamato a sostituire una persona che è rimasta nel cuore un po di tutti quanti gli appassionati dello sport e dell'istico provinciale no sicuramente è stato un compito abbastanza impegnativo e infatti dal primo secondo in cui abbiamo raggiunto un accordo con fabio per disputare il pico ho cercato di non lasciare nulla al caso e di fare il tutto nel migliore dei modi e alla fine penso che anche questo lavoro è stato ripagato dal risultato finale sicuramente un grande risultato un ottimo risultato quella della coppia carnevale li burdi in questo 42esimo rally di pico franceschi un rally che è stato importante per tanti aspetti intanto come ci svelerà nei dettagli tra qualche minuto in una intervista esclusiva che abbiamo avuto con l'organizzatore del rally di roma capitale del rally di pico max rendina ci sono delle novità per quanto riguarda gli anni gli anni a venire ma soprattutto perché ha potuto beneficiare della vetrina rappresentata dal rally di roma capitale è un rally importante quello di roma capitale perché ha aperto la stagione internazionale del realismo post kovid con un protocollo anti kovid sicuramente molto ferreo importante dispendioso ce ne parlerà rendina tra tra un po ma soprattutto con un clima particolare vedere la piazza di pico o le prove speciali non con la solita folla la quale eravamo abituati nelle edizioni antecedenti sicuramente ha fatto un po di effetto però tant'è e lo sport deve continuare lo spettacolo per fortuna è continuato e quindi abbiamo potuto godere di questa edizione del rally di roma capitale che ha aperto il campionato europeo il campionato italiano rally e chiedo alla regia di mandare in onda le immagini le bellissime immagini fornite dalla ac sport ecco una sottolineatura voglio farla per quanto riguarda la c sport c'è stato un grosso dispendio di energie e di forze per seguire anche in diretta con numerosi collegamenti rally di roma capitale è stato un grande successo di pubblico ma soprattutto tutti gli appassionati hanno potuto beneficiare di una copertura quasi integrale veramente io penso sia una un esperimento che potrebbe valere e farsi valere anche anche per il futuro quindi complimenti ad ac sport per lo sforzo profuso intanto vediamo le immagini di questo rally di roma capitale vinto per quanto riguarda il campionato europeo e la classifica assoluta ecco le immagini roma capitale vinto per quanto riguarda la classifica del cir vinta gara 1 da gian domenico basso gara 2 invece nel gara 2 si è in posto crugnola che in gara 1 ha avuto un incidente nella prima prova speciale quella terribile di greci pico queste sono le immagini di gian domenico basso con la sua fosvagen polo gt targata loran per loro il debutto su questa vettura un debutto di fuoco perché sono riusciti subito a fare degli ottimi tempi e da vincere gara 1 e queste sono le immagini dall'abitacolo proprio di basso in coppia con branai destra suddosso per sinistra 2 storta aggancia anticipa destra in gara 2 invece basso ha diciamo mollato un po ha gestito il risultato si è piazzato alle spalle di crugnola che è veramente andato fortissimo nella seconda gara quella della domenica valida per il campionato italiano imponendosi nella stragrande maggioranza delle prove speciali chi ha tirato veramente remi in barca in questa in questa seconda tappa del rally di roma capitale è stato invece proprio il il russo che luciano che che si è imposto a mani basse nel pro appunto del campionato europeo ospite anche di prestigio solberg figlio d'arte che si è piazzato sul podio per quanto riguarda la gara più importante ecco le immagini di solberg in grande progressione il suo esordio su asfalto al volante della foswagen discreta prova per battistolli che si è piazzato in decima posizione al suo esordio su asfalto con la scoda fabbia e in piena fase di apprendistato e dal cambio asfalto stop 20 ritarda sinistra 2 più gira per quanto riguarda i piloti tricolori pollara in coppia con messina hanno vinto la gara 2 della serie riservata alle due ruote motrici dopo gli inconvenienti in in gara 1 e poi umberto scandola un altro degli attesi protagonisti del campionato italiano per lui sfortuna in gara 1 terzo posto quindi terzo gradino del podio in gara 2 da segnalare anche l'ottima quinta piazza per il giovane comasco alessandro re che ha confermato in gara 2 profigo adattamento alla polo della factory di famiglia la hk racing e si è lasciato alle spalle i problemi ai freni che ne hanno rallentato la prima giornata di gara e queste sono proprio le immagini di alessandro re al re il tornante destro 50 sinistri destra sei lunga lunga sesta piazza per il veneto marco signora anche lui sul polo gt ed in fase di riadattamento al campionato italiano dopo i problemi della prima giornata finita al settimo posto ha chiuso la sua domenica davanti al reggiano antonio rusce in cerca del migliore setup sulla citroen c3 per quanto riguarda la laci team italia ha concluso con soddisfazione nella top ten il giovane battistolli al suo esordio su asfalto con la scuola fabbia ed in piena fase di apprendistato e queste erano le immagini fornite dalla ac sport di questo rally di roma capitale gara di apertura del campionato europeo e del campionato italiano rally un grande evento che ha fatto della cioceria l'ombelico del mondo del lazio l'ombelico del mondo rallistico per quanto riguarda questo 2020 è sicuramente una grande prova anche a livello di sforzo organizzativo per poter fronteggiare l'emergenza covid in in questa fase esperimento chiaramente riuscito superato ora naturalmente spetterà le altre competizioni essere in linea con quello visto nel nel lazio ma sicuramente a partire già da questa settimana con il rally di alba che è un grande avvenimento motoristico realistico con la partecipazione di tanti piloti sicuramente si saprà far 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 bene io direi che a questo punto possiamo iniziare con le interviste realizzate francesca si allora entriamo davvero nel vivo del rally di roma capitale con le interviste che abbiamo realizzato a fiugi e campioni italiani di rally lorenzo granai e gian domenico basso e la loro team manager del team loran lorella rinna dalla città termale di fiugi per commentare le ultime entusiasmanti gare di questo rally di roma capitale che vi racconteremo tra poco con le interviste al pilota gian domenico basso lorenzo granai e all'orella rinna del team loran lorenzo granai un ottimo risultato in questo rally di roma capitale vuoi dirci come è andata sì è stata una gara molto difficile siamo riusciti a fare secondi nel campionato europeo e per il campionato italiano era diviso in due gare quindi il sabato abbiamo fatto un primo posto e oggi secondi purtroppo con questa formula per il campionato italiano diviso in due gare non ci ha permesso di lottare per la conquista del primo posto nell'europeo perché abbiamo guardato solo al al nostro interesse diciamo senza andare a prendere rischi ieri quando non c'era bisogno e abbiamo lasciato andare lucchiano che il che poi ha vinto senza contrastarlo però va bene così siamo soddisfatti del risultato ma intanto vi aspettavo perché avevamo detto che se avessimo fatto un buon risultato sareste arrivati no all'europeo onestamente dopo l'uscita di crugnola alla gara 1 non ci ho più pensato purtroppo perché il nostro obiettivo era il campionato italiano questa mattina siamo partiti e quindi ieri abbiamo rinunciato la lotta con il russo e pensando alla giornata la seconda giornata alla sfida con crugnola che sarebbe rientrato oggi abbiamo spinto subito all'inizio andrea è stato veloce anche lui fin dall'inizio poi ci ha raggiunti e alla fine ha vinto lui per 7 secondi e 6 mi sembra è andato più forte di noi io onestamente non a un certo punto non volevo compromettere ecco di comunque dei punti importanti di una seconda posizione abbiamo cercato di terminare la tappa così comunque lui è stato bravo ed è andato veloce sapevamo che la macchina era una buona macchina doveva crescere un po il feeling tra di noi e abbiamo innanzitutto le due gare erano parecchio diverse perché la prima era una gara veramente dura dura per noi anche per le macchine una gara diciamo proprio una gara di europeo di mondiale mentre la seconda oggi è una gara un po un po più facile ecco a livello di velocità e di curve la macchina il potenziale lo sapevamo che che era buono dobbiamo un po adattarsi noi dobbiamo cercare di far lavorare un po meglio le gomme per sfruttare meglio il grip della gomma ed essere un po più veloci perché ci manca un po di velocità siamo qui con l'orella rinna manager del team loran che ha seguito passo passo le ultime tappe di questo rally di roma capitale con i piloti lorenzo granai e gian domenico basso allora l'orella come è andata bene sono molto soddisfatta ieri abbiamo vinto la prima tappa del cir e siamo sempre stati comunque secondi nell'europeo oggi abbiamo fatto secondi nel cir comunque abbiamo acquistato punti quindi siamo sempre primi nel campionato italiano e secondi nel campionato europeo e siamo stati oltretutto gli unici italiani in coda all'europeo perché gli altri sono arrivati comunque abbastanza dietro quindi gian domenico è stato veramente mi ha dato tante soddisfazioni qui quindi tornerai a casa con una valigia piena di soddisfazioni anche di vestiti insomma una donna di solito quando parte per queste competizioni cosa cosa mette in valigia tutto portato la casa adesso vado a casa il tempo di lavare i panni e rifare la valigia perché mio marito poi questa settimana una gara a salso maggiore terme quindi il tempo di rifare la valigia ripartiamo quindi poco tempo benissimo abbiamo ascoltato le parole dei protagonisti di questo rally di roma capitale gian domenico basso lorenzo granai la loro team manager ed ora è la volta di ascoltare anche con attenzione il bilancio reso dall'organizzatore di questo rally di roma capitale perché ci saranno delle cose anche interessanti che riguardano il futuro del rally di roma e del rally di pico ascoltiamo siamo al termine del rally di roma capitale un rally a quale è toccata un po' la avventura di aprire la stagione internazionale del realismo post covid con tutto quello che naturalmente ha comportato un esame superato a pieni voti dalla organizzazione della motosport italia e beh dopo la bandiera scacchi è il momento di fare i bilanci di questa gara e lo facciamo direttamente con il numero uno della motosport italia max rendina max allora hai fatto da apripista questa volta sotto il profilo organizzativo non nel settore delle competizioni è stata sappiamo molto dura organizzare questa questa edizione del rally di roma capitale perché ha dovuto fare praticamente da esploratori a questo nuovo sistema a caldo un bilancio di questa gara si abbiamo fatto da prepista però spero che il protocollo per gli altri organizzatori cambi non vi dico le le cifre che sono state spese perché non è il caso per gestire l'anti covid però è un organizzatore più piccolo di noi non credo che riesca a fare le gare con questi paletti sperando che conte non non prolunghi l'emergenza perché sennò la vedo molto molto critica per poter affrontare tutte le prescrizioni che vengono date e abbiamo fatto una gara molto molto difficile forse quella più difficile da quando è nato i rally di roma e abbiamo visto che comunque la regione c'è stata vicino tutti quanti comuni il prefetto la questura abbiamo collaborato con la questura minuto per minuto sono stati fantastici il pubblico in linea di massima che non doveva esserci c'è stato perché è entrato da degli accessi da noi non controllati perché facendo le gare su per le montagne non puoi gestire tutto e però sono stati molto molto disciplinati distanziati e comunque con con le mascherine mentre per la direzione gara il parco assistenza parco per me e tutto quello che ci riguarda penso che siamo stati impeccabili ringrazio tutto il mio il mio staff perché senza di loro non avrei potuto fare questo e quindi ci vediamo con l'anno prossimo sappiamo che il motorismo è uno sport dove l'aspetto economico ha una voce preponderante quindi naturalmente bisogna fare anche questi conti prima di pensare e di sognare in grande ma adesso parliamo un po' delle cose più piccole anche se per noi della zona sono grandi perché parliamo del rally di roma capitale lo abbiamo fatto ma del rally di pico 42 edizioni quindi rally più longevo del centro sud italia e il rally di pico ancora una volta quest'anno si è potuto ha potuto beneficiare di essere una costola del rally roma quindi con il transito sulle strade del pico di vetture e piloti importantissimi quest'anno addirittura a caratura mondiale con la vettura ufficiale con denis ordo con la vettura ufficiale della hyundai e di conseguenza è stato sicuramente un beneficio per il territorio aver potuto vedere all'opera e soprattutto trasmettere le immagini in tutto il mondo di quel del del nostro territorio ecco rally di pico organizzatore anche di questa gara minore chiamiamola così rispetto al rally in roma ma a cui il gli spettatori sociali sono molto legati una tua considerazione anche su questa competizione i rally di pico io ce l'ho ce l'ho nel cuore perché sono nato e cresciuto in queste zone e come pico e ceccano amo i picani come i ceccanesi la zona del frosinate per me è come una seconda casa però questo 2020 è l'addio tra motosport italia e rally di pico perché noi non rinnoveremo il contratto con loro per incompatibilità a livello gestionale e no perché per qualche altro motivo insomma e qualsiasi problema sorge sempre dalla parte di pico quest'anno abbiamo hanno rimesso un'altra volta i sassi abbiamo i cameracare la mentele e abbiamo per per motivi di sicurezza abbiamo tagliato la seconda prova a loro proprio per per far sì che capissero e non è più praticabile questo tipo di gestione quindi noi come motosport italia diamo l'addio a rally di pico sperando di tornare come come pilota è sotto un'altra organizzazione sono dispiaciuto di abbandonarlo i rally di pico però io sono uno sportivo il mio staff a livello di sport quello è un rally molto molto politico basta pensare che gli assessori dicono che non c'è ricaduta sul territorio abbiamo fatto 7 mila posti letto diretta eurosport rai e domani siamo a mediaset al telegiornale e c'è sport italia sky 228 e ricaduta sul territorio io non credo c'è che non ci sia ricaduta sul territorio perché due conti spendendo 80 euro a persona e per sette giorni noi abbiamo portato sul territorio circa 3 milioni e mezzo di euro e dire che non c'è ricaduta sul territorio mi sembra abbastanza esagerato però capisco anche i problemi politici gli faccio un mio in bocca al lupo per l'anno prossimo sperando di fare la prepista per loro e torniamo dunque in studio abbiamo ascoltato le dichiarazioni di max rendi in organizzatore del rally di roma capitale e per l'ultima volta sembra del rally di pico che ricordiamo è un rally giunto alla sua 42esima edizione quindi il più longevo per quanto riguarda i rally di questa zona del centro sud anche con qualche venatura polemica io volevo chiamare in causa fabio carnevale da rallista da picano da persona che conosce molto a dentro le questioni anche organizzative un po del rally di pico che per per tanti per noi è il più importante di questa zona allora fabio ascoltato le dichiarazioni di rendina cosa ne pensi sì ho ascoltato le dichiarazioni di rendina e in parte ha ragione perché ci sono sempre state delle questioni politiche anche negli anni passati quando non c'era con la collaborazione con motorsport tra l'opposizione la maggioranza del nostro paese perché c'era chi voleva a chi non voleva che si disputasse il rally di pico ma se loro pensano che sono state disputate 42 edizioni e la persona nel nome di paolo pietro paolo pompei che ha organizzato il tutto per tanti anni ci ha rimesso i soldi di tasca sua come tutte quelle persone del paese che hanno contribuito a far sì che arrivasse alla 42esima edizione questa cosa come cittadino di pico mi fa mi urta perché è l'unica cosa che abbiamo nel nostro paese nel nostro paese non c'è nulla oltre la buona fede e le brave persone oltre questo c'è solo il rally e diciamo che se togliamo anche questo non abbiamo più nulla c'è soltanto la strada che passa al centro del paese diciamo che fabio il rally di pico hai detto giustamente tu è il centro l'avvenimento principe del del paese è talmente importante che chiaramente anche a livello organizzativo e politico si è sempre risentito di questa importanza che ha il rally per i piccani ora se ne sono fatte 42 edizioni sicuramente se ne faranno 43 44 eccetera e quindi tutti tutti vivranno lo stesso bisognerà vedere ecco è chiaro che non ci sarà più il beneficio di vedere sulle strade del rally di pico una prova disputare la prova più bella più importante detta anche di molti piloti europei ed italiani cioè la greci pico nel contempo naturalmente è chiaro che il rally potrà potrà continuare lo stesso a vivere così come potrà vivere il rally di roma capitale io ritengo senza prescindere dal passaggio sulle strade della ceciaria perché non vedo un rally di roma capitale che non che non transiti sulle strade della ceciaria per la passione che hanno i ceciari soprattutto per per le strade adatte alle competizioni realistiche comunque prendiamo atto di questo naturalmente e speriamo che in futuro in un rally di roma capitale ancora a pinhaus e naturalmente nella organizzazione sempre corretta e sempre perfetta e perfettibile del rally di pico a questo punto io darei la linea alla regia per lo stacco prima di tornare in studio per la seconda parte francesca del nostro motor di assolutamente ben tornati amici apriamo questa seconda parte della puntata con chiudendo il discorso sul rally di roma capitale con l'intervista al direttore di gara gianluca marotta gianluca marotta un personaggio del mondo dello sport automobilistico che è nato proprio nelle nostre zone e che è riuscito naturalmente grazie alla dedizione all'impegno alle capacità indubbie in una grande carriera perché andare a dirigere come direttore di gara la prima gara del campionato europeo prima gara del campionato italiano 2020 e non è la prima volta naturalmente vuol dire un grande traguardo ma non è di questo che vogliamo parlare con gianluca marotta vogliamo parlare di questo grande evento una macchina organizzativa e no grandissima che coinvolge migliaia di persone con ricaduta sul territorio anche abbiamo visto nonostante l'era post covid molto movimento per quanto riguarda gli addetti lavori pur con il rispetto massimo di quelle che sono le direttive sanitarie allora un tuo personale bilancio gianluca è stata una competizione molto difficile però diciamo nei periodi di organizzazione pre gara siamo stati anche con grande difficoltà a affrontare delle problematiche importanti massimo ci ha dato quella spinta necessaria perché allora noi siamo un gruppo di amici anche se siamo inquadrate all'interno di una società per azioni che è quella di massimo la società per azioni motosport italia c'ha al suo interno uno staff molto completo molto determinato che è fatto anche da bruno de pianto che il team principal di motosport italia che rappresenta un po il cuore della della di motosport italia e massimo ci ha dato la spinta per andare avanti perché in definitiva pensavamo di non farcela però massimo creduto sempre fino in fondo al fatto di dover affrontare questo scoglio e e la portata avanti devo dire veramente con grande capabilità e anche con grandi capacità noi abbiamo affrontato il rally in una maniera abbastanza difficoltosa perché perché le forze dell'ordine pur essendoci state vicine in maniera compiuta assolutamente delicata e anche operativamente fattiva erano determinate a effettuare una serie di controlli che andavano a tutela della pubblica incolumità ordine pubblico e quindi gestione della viabilità e la gestione sanitaria perché non ci scordiamo che siamo ancora in emergenza sanitaria e quindi ho capito perfettamente che l'iter che dovevano seguire era un'idea importante di controllo di check up anche delle capacità organizzative che avevamo e delle garanzie che potevamo offrire alle forze dell'ordine e alla diciamo così alla società e in questo diciamo che siamo riusciti a fare un buon lavoro è stata molto difficoltosa ma anche molto gratificante benissimo abbiamo ascoltato le dichiarazioni anche del direttore di gara del rally di pico e del rally di roma capitale e adesso andiamo a incentrare la nostra attenzione francesca proprio sul rally valeore per la coppa di zona con massimo coefficiente abbiamo qui i vincitori del rally fabio carnevale e mercolibur di li abbiamo già ascoltati poco fa e io direi che dovremmo un attimo tornare sulla questione inerente il futuro del rally di pico perché abbiamo detto dal prossimo anno scaduto alla convenzione non ci sarà più il supporto organizzativo del della motosport italia quindi del rally di roma capitale quindi praticamente non ci sarà più il binomio il connubio tra la gara valevole per il campionario internazionale ed il rally certo è che però questo ha consentito questo questo binomio ha consentito anche a voi piloti locali fabio di avere anche un metro di paragone con i più forti piloti europei perché in fin dei conti avete percorso le stesse prove speciali nelle stesse condizioni macchine sicuramente non identiche però tutto sommato è stato un valido motivo di confronto anche un motivo in più per voi per per far bene ecco tu che bilancio puoi tracciare ne parlavamo prima in prima di entrare in onda che sei molto soddisfatto perché i riscontri econometrici in fin dei conti vi hanno dato ragione no siamo molto soddisfatti con mirco perché riscontri econometrici nonostante non abbiamo forzato più di tanto ci siamo inseriti nella classifica dell'italiano circa nel sesto posto se consideriamo che noi abbiamo trovato un fondo stradale da non poter riuscire a vedere la strada e le pietre per quante ce ne erano diciamo che siamo molto soddisfatti per questo è stato un'avventura bellissima e speriamo che si possa ripetere l'anno prossimo anche se si farà solo rally di pico bene intanto vediamo le immagini molto belle realizzate dal top video di lello abate che ringraziamo per la disponibilità e per la gentilezza per averci fornito queste queste immagini proprio del passaggio delle autovetture nel storico passaggio sulla piazza principale di pico francesca volevo fare una domanda a mirco mirco tu hai corso con tantissimi piloti no quindi volevo chiederti quali sono le caratteristiche di fabio nel bene nel male da premettere che io ho ritrovato fabio dopo dieci anni perché ho corso con fabio già dieci anni fa e quindi quindi un po già lo conoscevo la caratteristica di fabio è che comunque ha uno stile di guida molto pulito e molto preciso il che ti dà sicurezza e ti dà anche una certa diciamo tranquillità nel fare il tuo lavoro da navigatore nel senso che non devi stare a pensare a cosa potrà combinare in questa curva o nell'altra perché comunque ti dà una certa tranquillità sicuramente la fiducia è la prima cosa in questo tipo di collaborazioni sì la fiducia è la prima cosa e fabio te ne trasmette molta ecco volevo chiedere una cosa sempre a te mirco bisogna avere è più il navigatore che deve avere fiducia nel pilota e trovare nello stesso certezze o il contrario ma secondo me è reciproca la cosa perché comunque se uno dei due sbaglia a pagare sono entrambi certo se sbaglia il pilota i danni possono essere magari maggiori perché ci potrebbero essere anche dei danni fisici mentre per quanto riguarda il navigatore anche lì se si sbaglia a un cio si sbaglia un qualsiasi cosa che va a infrangere il regolamento vai ad incorrere in penalità che poi ti ti pregiudicheranno insomma il risultato finale certo intanto ecco chiediamo alla regia di mandare in onda ancora le immagini del rally di pico realizzate dalla top video di Lello Abate e rally che come abbiamo detto è stato vinto naturalmente da carnevale di burdi su una scoda fabbia ma nel contempo dobbiamo anche ricordare che il podio è stato monopolizzato da equipaggi ciocciari perché alle loro spalle sono piazzati Carmine Tribuzio al suo ritorno ormai è diventato un affezionato del rally di pico in coppia con Gianni Stracqualursi sempre su una scoda fabbia staccati di 41 secondi va detto che carnevale ha fatto l'emplay nelle quattro prove speciali disputate se una è stata annullata terza posizione invece per una vecchia conoscenza del realismo centro meridionale il veterano Francesco Laganà in coppia con il ciociario Emilio Colozzi sempre su una vettura boema una scoda fabbia staccati di due minuti e 32 piedi del podio abbiamo Luca Santoro in coppia con Carmen Grandi per loro il piazzamento con una Mitsubishi Evo 9 staccati di 3 minuti e 04 e poi ancora Trotta Lepore che si sono imposti nel loro raggruppamento il gruppo A alla guida di una Peugeot 106 ancora scorrendo la classifica della top 10 troviamo Tuzzolino Falaschia a bordo di una Peugeot 208 poi di Gesù IV De Filippi Massaroni che si sono imposti invece nella selettiva classe N3 una delle più numerose competitive per quanto riguarda il realismo di zona davanti a appunto a Divito Pelagalli chiudono la top 10 Vincenzo Massa in coppia con Claudio Savo a bordo di una Renault Clio R5 Ragno T questi sono i top la top 10 di quanto riguarda questo rally un rally di solo su quattro prove speciali Fabio un po' riduttivo diciamo che questo binomio con il rally di Roma Capitale un po' vi costa a voi che invece vi concentrate sul rally di zona no è vero che ci sono per il beneficio degli spettatori vetture piloti a livello mondiale come quest'anno è altrettanto vero che per quanto riguarda voi del campionato di zona invece siete un po' handicappati sotto questo profilo Sì è vero siamo un po' penalizzati perché abbiamo disputato le prove con circa due ore di ritardo per ciò che era accaduto nell'italiano prima nell'europeo e poi nell'italiano e soprattutto con l'incidente di Crugnola che era appena diciamo i primi chilometri dell'APS di Pico Greci per noi è un grosso handicap perché diciamo che già essendo un percorso ridotto per il fatto della situazione del Covid già a 68 chilometri poi hanno tolto gli altri 14 chilometri della prova di Pico perché c'era ritardo c'erano le pietre sul percorso noi abbiamo disputato quattro prove all'incirca come un rally ronde e solo questo è l'handicap che abbiamo noi piloti che facciamo il trofeo di zona Diciamo che dal prossimo anno a meno per quanto riguarda il Pico si dovrebbe tornare alla normalità per quanto è stato detto fino ad ora Bene allora adesso concludiamo il discorso inerente ai rally di Pico chiedendo a Mirko invece quali sono i suoi programmi per quanto riguarda questa stagione che ormai diciamo è gli sgoccioli appena iniziata e già gli sgoccioli per le note problematiche dell'emergenza sanitaria se c'è qualcosa in programma oppure se state già programmando la stagione 2021 Sinceramente c'è più di qualche proposta per quanto riguarda il proseguo del CRZ e in più qualche gara che dovrebbe disputarsi all'estero il problema più grande è che purtroppo o per fortuna lunedì cambierò lavoro e quello mi pregiudicherà buona parte delle gare che dovrò disputare Tutto sarà vincolato al lavoro e spero comunque di finire il CRZ e poi vediamo per quanto riguarda le restanti gare all'estero di cercare un buco per poterle disputare Beh certo perché va sottolineata questa cosa oggi abbiamo parlato abbiamo visto i nostri ospiti in video Francesca i piloti che disputano il campionato europeo e il campionato italiano piloti professionisti naturalmente con Fabio e con Mirko siamo alle prese con piloti non professionisti naturalmente che fanno ben altro nella vita di tutti i giorni che si dilettano sulle auto da corsa per grande passione e con ottimi risultati per quanto li riguarda La differenza è proprio questa che Mirko chiaramente ora deve pensare più al lavoro e non a navigare, vero Mirko? Rispetto alla coppia formata da Basso e Granai c'è questa sottile differenza Purtroppo sì, io oltre a navigare insomma devo pensare anche alla vita privata e insomma al lavoro perché noi non siamo professionisti e non lo facciamo per vivere facciamo ben altro per vivere e quello va come priorità rispetto ai rally Benissimo dunque Francesca parola a te Sì mi sembra giusto chiaramente quello che lui ha detto adesso dobbiamo lanciare il nostro servizio sul Porsche Club Esatto, prima di parlare del Porsche Club quindi hai detto bene un servizio particolare perché passiamo dalla gare su strada alle gare su pista e nell'ultimo, nello scorso weekend c'è stato un importante appuntamento per quanto riguarda una delle serie storiche per quanto riguarda la velocità su pista è proprio il Porsche Club GT e vediamo il servizio realizzato e soprattutto di seguito poi avremo l'intervista al patron di questa serie Diego Locanto che è il promoter della Porsche Club GT Si fanno roventi le super sfide del Porsche Club GT il cui secondo round 2020 è andato in scena rivoluzionando classifiche e forze in campo all'autodromo nazionale di Monza In una domenica molto calda e nel rispetto delle normative sportivo-sanitarie il monomarca nazionale di Time Attack ha vissuto una tappa cruciale nel Tempio della Velocità scenario ideale per la continua ricerca del limite che ha permesso a diversi protagonisti di ribaltare gli equilibri della specialità che premia il giro più veloce Sul circuito Brianzolo sono tornate in azione le quattro categorie della nuova serie riconosciuta da AC Sport con protagoniste le 911 da Corsa e Stradali E sono fioccati i duelli sul filo dei centesimi di secondo A far festa sul podio di Monza sono stati soprattutto i quattro vincitori di gara Diego Locanto, pilota e presidente del Porsche Club Umbria, promotore della serie che ha raggiunto quota 44 iscritti nella categoria Goodyear GT3 RS I piloti milanesi Ivan Costa Curta nella D-Factory Cup e Andrea Giorgi nella Panta GT3 e Ravennate Carlo Manetti nella Paddock GT Il prossimo appuntamento con il Porsche Club GT a Imola il 13 settembre dopo la pausa estiva Monza, il Tempio della Velocità, le sensazioni sono soltanto che meravigliose Penso che tutti quanti si stiano divertendo come già nel primo round di Misano C'è un'altalenanza di primi posti in tutte le categorie rispetto a Misano Questo come avevamo già annunciato precedentemente dimostra la vicinanza che c'è tra i piloti Ma anche i miglioramenti di tanti di loro che stanno arrivando veramente a dei livelli altissimi Sono molto contento, ci sono già dei piloti che verranno a Imola diciamo che new entry Come è successo qui a Monza con 4-5 piloti che non c'erano a Misano Qualcuno oggi usa la gara come scarto e quindi c'è anche questa strategia O comunque questa possibilità di screcciare o la peggiore performance o la gara che uno preferisce non fare E questo ancora di più dà la sensazione di quello che sia un vero e proprio campionato Benissimo, torniamo in studio Abbiamo ascoltato il servizio della nostra Francesca Sacchetti sulla gara del Porsche Club GT E l'intervista al patron della serie dedicata alle vetture di Stoccard Diego Locanto Torniamo in studio, siamo ormai ai titoli di goda della nostra trasmissione Prima di chiudere naturalmente andiamo ad ascoltare e ancora interloquire con i nostri due ospiti Ricordiamo Fabio Carnevale e Mirko Liburdi I trionfatori del 42esimo rally di Pico Svoltosi proprio lo scorso fine settimana Fabio abbiamo chiesto prima a Mirko quali sono i suoi programmi per quanto riguarda questo 2020 Oppure se era già entrato nell'ottica 2021 Stessa cosa chiediamo a te Ci stiamo pensando ai programmi futuri Penso che se le cose procedono bene vorremmo fare rally del Molise per continuare la Coppa Italia Benissimo, allora prima di salutarvi vediamo tra di voi, tra voi due quel bellissimo trofeo È un trofeo che ha una storia particolare Fabio se vuoi spiegarcela tu Sì, questo è il trofeo intitolato a Giammasi Battista Che ci ha lasciato il 24 di marzo di quest'anno Durante un periodo molto brutto per tutta la società Abbiamo deciso con vari piloti di Pico e insieme a Gravante Di fare questo trofeo intitolato a lui E di decidere che questo trofeo andasse a tutti i primi di classe Che avessero raggiunto il primo risultato E questo è il nostro Benissimo, bellissimo trofeo ma soprattutto bellissimo è il significato che sta dietro Questo oggetto simbolico Bene, noi vi ringraziamo intanto per la vostra partecipazione Naturalmente a voi vanno i nostri migliori in bocca al lupo Per quanto riguarda il proseguo della stagione e anche l'inizio della prossima Francesca, prima di cedere la parola a te io vorrei solamente ricordare che anche questo fine settimana È un fine settimana intenso per quanto riguarda le competizioni motoristiche Perché intanto per quanto concerne i rally c'è un rally di alba Valido per il campionato italiano WRC Che presenterà al via non soltanto i piloti partecipanti all'italiano WRC Ma anche i piloti del mondiale, piloti di categoria internazionale Che orfani proprio del campionato del mondo Si stanno cimentando come ha fatto Denis Sordo nel rally Roma Capitale Sulle strade italiane, nei rally italiani per mantenere l'allenamento E naturalmente per mettere a punto le loro vetture E poi abbiamo anche il rally di Salso Maggiore Che vedrà al via anche dei piloti e dei team laziali E il rally di Scorsi è valido anche questo per la Coppa Italia quarta zona Mentre il Salso Maggiore è valido per la Coppa Italia quinta zona Si aprirà anche la stagione del campionato italiano Slalom In Basilicata nel trofeo Vulture Melfese E quindi anche gli Slalom e altre gare su strada Che danno il via delle competizioni nell'era post-Covid Anche nel loro caso naturalmente verrà imposto il protocollo sanitario E la chiusura delle zone riservate al pubblico Siamo ai titoli di coda, lo ribadiamo E naturalmente la parola va a te Francesca Grazie Alessandro, grazie ancora amici per aver scelto MotorD Grazie per essere stati con noi e per chi si fosse collegato In questo momento potete seguire le repliche Già a partire da mezzanotte e 45 Poi venerdì alle 12, alle 22 e 30 E sabato alle 16 Noi vi diamo appuntamento a giovedì prossimo Sempre alle 21 e 10 Sempre su Extra TV Grazie a tutti Grazie per la visione!